uno questo cosa sarebbe signore è zero sugo e zero calorie e zero fatte questo i fiori di loto ai me cactus ragazzi cactus no bello è molto spinoso ragazzi bello e dolce sarà di shampoo questo è bello sarà di yogurt ragazzi osservate chissà se fanno a fuoco sembra qualcosa che mi hanno mangiato in giapponese in giapponese agro piccante un po' paprika così qua nero e 30 lo sparkling in pratica è acqua aromatizzata se avete le barre ragazzi servite anche lo sparkling weather com'è? buonissimo buono il sabore del fazzoletto non mi scade invegnato l'ho Stai di scarpa, hai presente solo la scarpa? No, c'è presente la cenere dei passacenere, mangiare. Mi cari cinesi, cioè io so che voi siete capace di grandi cose, perché sta roba? Se indovani volete morire, assaggiate questo. Tra l'altro mi sento di più una spiranganna. E' partito uno schizzo. L'aspetto sullo scatolo era questo. In realtà, per me lavo la macchina, in realtà ragazzi, cioè questo. Quello tutto è promosso. Un po' come la consistenza di moci. Voto. Sette. A me dieci. 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 Grazie a tutti